E due, uno, ecco, e due, uno, due, uno, e due, uno, e due, e due, stiamo sull'angolo e due, anche dici, e comodo? Lasciami queste braccia, lasciamele, 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 ecco, uno, due, lasciamele, non falle scappare, e due, uno, due, uno, due, e due, uno, due, uno, due, 2, 1, inceppato, inceppato, 1, no era il 2 scusami, 1, ops, e 2, 1, piano 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Si è incastrato di nuovo Lollo? No, neanche tanto? No, non così, non così. Lasciami queste braccia.